Sono Giampaolo Marini, sono responsabile Gardener dell'azienda Davines Sita in Parma, azienda che produce shampoo e prodotti per il corpo, hair care e body care. L'azienda è stata forse una tra le prime a proporre l'elettrificazione di mezzi e siamo stati forse tra i primi a Parma a gestire quasi tutti, anche il parco auto in elettrico. Quindi è molto importante, soprattutto per un'azienda che punta all'ecologia e al rinnovamento energetico, l'utilizzo di mezzi di questo tipo. Sul mercato si presenta come l'unica soluzione in questo momento elettrica che avesse delle caratteristiche anche di portabilità e soprattutto di guidabilità in ambiti molto particolari come questo, dove c'è molto verde e molta attività di pulizia. Noi abbiamo chiaramente chiesto di avere un apparato di gestione della cabina, quindi un riscaldamento per la parte invernale. Abbiamo chiesto di mettere una videocamera posteriore per la manovra, per agevolare anche chi eventualmente non fosse abituato a guidare dei mezzi di un certo livello, di un certo tipo. Abbiamo cercato di posizionare un ribaltabile per l'utilizzo che noi abbiamo del carico e scarico dei materiali, dei residui.